Io in questi momenti difficili proprio mi sono imposto di non essere polemico, di cercare di essere il più tranquillo, educato possibile e quindi continuerò su questa via. Quindi sto ai fatti e non faccio nessun commento. I fatti sono, le squadre mi hanno scritto proprio una settimana fa, dando la loro disponibilità al dibattito pubblico e anzi dicendo che procederanno a costruire un progetto che possa essere oggetto del dibattito pubblico. Ora, delle due l'una, o è la Gazzetta dello Sport che sta fomentando polemiche, oppure devo considerare che la lettera che mi hanno inviato era priva di significato. Non lo so, però ripeto, io continuerò a fare la mia parte, non veramente voglio evitare che qualunque mia parola suoni come polemica o come ostacolo alla realizzazione di questo progetto. Io andrò avanti comunque.